Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La risposta dopo i primi passi da Presidente del Consiglio in pectore di Giorgia Meloni? Questo invito l'unità alla coesione nazionale sostanzialmente perché un'unità nella differenza tra maggioranza e opposizione non va nella direzione di chi vuole spaccare il paese con delle scelte reazionarie. Però dipende dalla Meloni definire che cosa sarà la sua figura da premier perché il passaggio per tutti naturalmente dall'opposizione al governo è una prova del nove, è la prova dei fatti e quindi dovrà spiegare anche qual è la sua cultura di riferimento perché evidentemente la cultura in cui si è formata e che ha lasciato è una cultura che non è servibile, che non è commerciabile politicamente, quella che viene dal post fascismo. E quindi si tratterà di vedere se fa riferimento a una tradizione conservatrice o se fa riferimento a una tradizione più radicale, più netta che potrebbe dividere l'Italia e potrebbe sollevare delle opposizioni da parte di diverse minoranze del paese se vengono attaccati i diritti. Per il momento non pare. Tu che idea ti sei fatto?